e ciao a tutti ragazzi il video che state per vedere è di una battuta di pesca allo sgombro che ho fatto poco tempo fa in cui mi sono veramente divertito e abbiamo fatto veramente molte catture non vi dico altro e buona visione ed eccoci in pesca qua ho la sarda e qua il sapicchi bello bello questo bello ragazzi guardate che sugarello vabbè scappato piccolissimo stanno iniziando ad entrare in pastura sgombro bello bel pesce ragazzi è un bel pesce è un bel pesce madonna grosso è sgombro è per la pancia grande sono due sono due è un bel pesce è un bel pesce è un bel pesce è un bel pesce no 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 lo comi lo comi odio è gigante è gigante che pesce che pesce pesce penso proprio sia uno sgombro il là e infatti lo è un bello sgombro pesce sul sapicchi è uno sgombro penso proprio di fine ah no suro questo lo lasciamo dai succherellino vai bello altro bello sgombro con il sabicchi guarda qua guarda qua con il sgombro pesce 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 no sgombro madonna come tirano questi pesci oh bello oh bello lì sgombro proviamo a fare una cattura indiretta adesso raga eccolo eccolo cattura indiretta te la prendi se vuoi no pesce 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 eccolo bello che bello fish è un bello sgombro tutti sul labbro ragazzi questo è proprio bello tira oh allora voi hai preso per fuori vuoi un bel mostro oddio ma è gigante madonna 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 bello sgombro è enorme è enorme è un lanciardo è un lanciardo è un lanciardo gigantesco qui c'è che divertente che sono eccole qua sgombro ragazzi ce l'ho piccolino avevo appena detto si sono fermati un altro oh anche sul sabicchi anche sul sabicchi anche sul sabicchi tiro su no no tiro su io lascia lì bello sgombro fish on ci ho si salta come le trote fischon mentre stavo mangiando faccio qualcosa penso sia un sugarello il fatto si si non non riusciamo ad andare eccolo 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 si il problema è che oh tira wow wow bello 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 sgombro fish on fish in canna no soverello c'è una casa non lo tocchiamo nemmeno è andato fish una gallinella è mia prima gallinella guardate che bella lasciamo andare bella altro pesce tra l'altro ho la batteria scarica tra l'altro tra l'altro tra l'altro però si ok meglio così pesce vediamo cos'è speriamo uno sgombro mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia ed eccoci ragazzi giunti alle conclusioni di questo video io in questa giornata mi sono divertito un sacco e spero che il video vi sia piaciuto se così è stato lasciate un like ed iscrivetevi ciao